Tutto è finito, la terra è salda, ma le foreste sono ancora in fiamme, ed il mio compito sarà reanimarle, ad ogni costo. Loro è andato per la propria strada, ma a quanto pare, questo era solo l'inizio, sembra che delle nuove creature spiano arrivando sulla terra, ma non tutte hanno buone intenzioni contro la terra, tu chi cavolo sei, io sono i sei. Puoi avere minacce incongono sulla terra e sulla galassia? Demonic Mosasaurus non era nulla in confronto. Ehi, abbiamo bisogno del tuo aiuto. It's the fight club. Capitale spoleto 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 spoleto. Loro идеale. Dec Dec approach. Lo cavolo 2 e il nomeываетント colabor inducedurale. Ora vedrai liberamente doshi mostrano. No